Eccolo! Eccolo, signore e signori, giù il cappello, Silvio Erkloft! Silvio Erkloft, il campione tedesco, ieri secondo, e giù la maglia di re! Il re, il re del cinquantatresimo, Paglio del Reciotto, è il tedesco, Silvio Erkloft! Alla secondo posto, l'australiano Robert Power! Alla terzo posto, portacolori del team Gavardo Tecmoor, Stefano Nardelli! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.